Vi voglio mandare un messaggio d'amore Il messaggio d'amore è Amatevi, rispettatevi, voletevi bene Adesso voglio leccare la telecamera Posso? Posso? Sì vai, bravo Avvicinati Grazie, pallone T'ho un po' alitato Adesso bisogna pulirla Adesso Dai bravo, lancia la sfida allora Allora, adesso la sfida Consisterà in Paolone accenderà questa lampada Che è un halogena da 250 va Un halogena da 250 va Adesso io andrò a pisciare Quando tornerò Metterò la mano su questa lampada halogena E dovrò registrare più di 3 secondi Se registrerò vado in Bravo Ma io provo però Cioè se io non riesco Per me non è un fallimento È una prova Perché deve essere così Nella vita Ogni cosa è una prova Se non ci riesci Ci riusci alla prossima volta E ci provo 2 minuti e 47 Quando arriva il 3 Lo dico 4 secondi 4 secondi 4, 3, 2, 1 Stacca 3 minuti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 No, attaccata, non vado, attaccata, eh? Sì, me l'avevano anche qui, dicendo... Non è certo, ma è veramente... Non è tanto in piaccio, Johnny. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. No, mettiamo la mano, Brown. Brown, metti da qua nel freddo un attimo. No, no, non vedevo mettermi nel freddo. Devo far solo due prime a Paolone. Paolone, dico solo una cosa. Era caldo, ma è caldo di Ferragosto. Non l'ho mai sentito, Johnny. Che mani c'hai con i cali figadini. Chianti? Chianti? Ah. Quaccuza!